Rocco Bruni dall'Aquila parte dell'avventura per gli europei che si risputeranno a Cagliari nel mese di giugno. Sì, noi abbiamo voluto iniziare proprio dall'Aquila questa nuova sfida con i miei compagni di viaggio, Carlo, Stefano, Gabriele, con tutto il Consiglio federale che ci ha dato fiducia perché l'Aquila per noi rappresenta l'emblema di cosa deve essere la nazionale, di che forza dovrà avere. Sì, perché l'Aquila c'è stato il terremoto e l'anno prossimo sono il decennale, quindi le sofferenze si conoscono. Esatto, noi anche ieri abbiamo fatto un inconvegno sulle difficoltà che possono diventare delle opportunità e quindi per questi ragazzi questa è una grossa opportunità di andare a fare una manifestazione internazionale e rappresentare l'Italia, rappresentare il tricolore, per loro è importante e per noi è importante. Parlando del convegno che si è svolto il giorno prima di questa partita, le difficoltà come diventano opportunità? Le difficoltà intanto bisogna riconoscere, bisogna accettarle consapevolmente e poi da lì partire perché ogni volta che c'è una difficoltà si cresce un po' se si riesce a trovare una soluzione, una strategia. Noi ne dobbiamo mettere in campo diverse perché col problema che abbiamo sulla comunicazione dobbiamo essere bravi a trovare delle strategie per comunicare con i ragazzi e per farci in qualche modo ascoltare. Invece le difficoltà per questo campionato europeo? Beh sicuramente diciamo che è una grossa sfida perché l'Italia la organizza in casa, tutti vogliamo fare bella figura però lo sport sappiamo che non si può promettere niente. Una cosa però la possiamo promettere è che il nostro impegno sarà ogni volta al massimo in ogni allenamento, in ogni raduno, in ogni partita. Questo è certo. Il nostro impegno è un impegno è un impegno è un impegno.